Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è come ben saprete solo pochi giorni fa la famosissima conduttrice Maria De Filippi ha dato il via per la nuova edizione del tanto amato programma da lei condotto. Il talent viene seguito incredibilmente dal pubblico italiano ed automaticamente gli share continuano ad aumentare giorno per giorno. Proprio per questo motivo infatti i giovani talenti sono onorati di poter far parte di una scuola così prestigiosa poiché trasmette loro la notorietà necessaria per poter fare carriera nel mondo della danza e del canto. Ogni giovane allievo infatti per poter accadere deve prendere parte alle selezioni, solo dopo innumerevoli prove viene confermato ed una volta giunto all'interno dello studio il suo percorso sarà pieno di sfide. Queste ultime servono per determinare il talento dei vari allievi e capire i vari punti di forza ed i punti deboli su cui lavorare. Oltre a questo però vi sono altri innumerevoli compiti da poter a termine e vi san perfino delle regole da rispettare severamente. Già in passato abbiamo assistito a delle squalifiche dovute proprio al comportamento e dalla violazione del regolamento dei giovani protagonisti del programma. Maria De Filippi Amici Amici, il giovane allievo viene sospeso inaspettatamente, di chi si tratta e perché. Chi segue ormai da tempo il noto programma sa perfettamente che i vari professori devono essere un esempio per i propri alunni e proprio per questo motivo da questi ultimi chiedono estrema maturità e determinazione. Una maestra in particolare però è incredibilmente ferrea su alcune argomentazioni e risulta essere molto severa per i giovani allievi. Nelle scorse ore hanno girato le riprese per mandare in onda la seconda puntata del programma e, grazie alle talpe di Amici News possiamo comunicarvi che, colui che sembrava il nuovo pupillo della Mastra Alessandra Celentano è stato sospeso da lei stessa. Stiamo indubbiamente parlando di Ramon, il quale aveva ottenuta un briciolo di rispetto della famosa maestra, la quale però si è prontamente pentita ed ha sospeso la maglia del ragazzo. Pare che la maestra sia rimasta delusa da alcuni scatti che ritraggono proprio il giovane ballerino, il quale appariva in ciabatte, in canotta ed in costume. Inutile dirlo, il diretto interessato non ha gradito affatto il gesto della maestra poiché considera la sua reazione del tutto esagerata. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.